Prima di tutto partiamo da te, come stai? Non sei entrato dal primo minuto per questo problemino alla spalla, però poi insomma sei entrato bene? Sì, 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 molto meglio. Non mi ha messo dal primo minuto per la paura di magari prendere la botta ai primi minuti, dieci minuti, magari di fare la sostituzione. Quindi preferito farmi entrare nel secondo tempo, però penso molto molto meglio. Che peccato, una sconfitta, la seconda ma completamente diversa da quella arrivata con il Cosenza. Ci sono stati degli errori e contro una squadra come il Cagliari poi si rischia di pagarli, però un benevento che anche dopo lo svantaggio è stato sempre vivo? No, sicuramente penso che oggi c'è stato un ottimo benevento, soprattutto nel primo tempo che secondo me se andavamo in vantaggio non avevamo rubato nulla. Quindi poi dopo l'espulsione del giocatore del Cagliari, per la nostra disattenzione che loro sono andati in vantaggio, è stata molto dura perché chiudendosi tutti là dietro è molto difficile fare gol. Magari abbiamo avuto qualche occasione, però bisogna fare gol per portare il risultato a casa. Però sicuramente è stata una disattenzione da parte di tutta la squadra e dobbiamo lavorare su questa cosa. Studio. Buonasera e ben trovato Gaetano, siamo contenti che l'infortunio sia praticamente ormai alle spalle, partire con una battuta. Come non essere interessate alle disamine tecnico-tattiche di Billy Nuzzolino, no? Sei sempre stato il primo al confronto, al di là poi di quella che è una battuta, domanda per te. Nonostante la sconfitta di oggi, questa partita vi dà la consapevolezza di potervela giocare alla pari contro chiunque? Beh, io dico che questa partita ci dà la consapevolezza di essere un'ottima squadra perché l'abbiamo dimostrato nel primo tempo e penso che siamo gli stessi del secondo tempo. Quindi magari andando loro in vantaggio, recuperare il risultato, forzare le giocate, siamo andati un po' in difficoltà. Però ti ripeto, penso che questa è un'ottima squadra che sta lavorando piano piano. Da poco abbiamo cambiato modulo di gioco e quindi dobbiamo entrare nei meccanismi. Però penso che questa squadra se la può giocare con tutti. Ciao Gaetano, oggi avete dato conferma di quello che è un po' il cambiamento di mentalità di questa squadra. Lo dicevo prima con Manfredini. La prima partita, quando siete andati in svantaggio, c'è stata una sorta di crollo psicologico, un po' come era accaduto anche lo scorso anno tante volte. Invece dopo Genova c'è stata una svolta. Oggi, nonostante lo svantaggio, persino sul 2-0 la squadra ha dimostrato grande forza caratteriale. Come ti spieghi questo cambiamento? Cioè tu che lo vivi all'interno, lo chiedo pure a Nicolò, che cosa è cambiato? Qual è stato l'elemento che ha determinato questo cambiamento sul piano della mentalità e della personalità, direi io? No, no, sicuramente è una cosa che l'abbiamo notata tutti. Quindi, come hai detto tu, da dopo Genova abbiamo cambiato proprio la mentalità, l'atteggiamento. Ma tutto questo è frutto degli allenamenti, anche del sistema di gioco che eravamo molto più compatti rispetto a altre volte, che prendevamo sempre imbarcate, un po' larghi, quindi penso che questo sistema di gioco per adesso ci casca a pennello alla squadra. Quindi, come ti ho detto prima, purtroppo dispiace per il risultato perché abbiamo fatto un'ottima partita. Poi, come ho detto prima, siamo andati in svantaggio, abbiamo cercato tutti i modi per recuperarla, però purtroppo il calcio è anche questo, quindi bisogna lavorarci da domani e pensare alla partita di Brescia. Scusi, Micaedano, toglimi una curiosità. Durante il primo cooling break, nel primo tempo, tu e Pasquale Schiattarella vi siete avvicinati agli arbitri e ci è arrivata amabilmente sorridendo. Che cosa vi siete detti? No, no, vabbè, con Aureliano abbiamo un ottimo rapporto, penso che sia uno degli arbitri migliori che ci sia in circolazione, per me, questa è una mia opinione. No, stiamo parlando dell'ammunizione a Karic, che era un contrasto di gioco che si poteva anche evitare, solo quello. Sonia, come sempre a te per l'ultima. Sei il capitano del Benevento, martedì c'è stato il compleanno, quest'oggi un clima di festa, insomma bisognerà proprio ripartire dall'entusiasmo della curva. Sicuramente, dispiace molto perché, come hai detto tu, era un clima di festa e il rammarico più grande è proprio quello. Con una vittoria sarebbe stato ancora più bello, quindi faccio ancora i miei più sinceri auguri a tutta Benevento, la società, ai tifosi e basta. Come abbiamo visto prima, l'entusiasmo non deve mai mancare.